Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo degli Scarpa Rush TRK GTX, i nuovi scarponi di scarpa che presentano tantissime novità, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Troviamo una nuova sua presa di scarpa, troviamo l'IKS, tantissime tecnologie che vado a descrivervi e di cui parliamo in questa recensione completa. Inizio riportandovi qualche dato fornito dalla casa. Allora, abbiamo uno scarpone da 550 grammi nella taglia 42, nel mio 47 è uno scarpone che ne pesa più o meno 650-660. È uno scarpone tre stagioni, possiamo dire sicuramente non invernale, e presenta tantissime tecnologie che inizio subito a descrivervi dal battistrada. Qui troviamo una nuova suola presa by Scarpa, una suola che, dico la verità, mi ha stupito, mi ha stupito veramente tanto perché è paragonabile a tante suole di Vibram, ha un ottimo grip su qualsiasi superficie, anche sul bagnato non avremo paura a camminare. Io l'ho utilizzata addirittura su tratti con neve e ha comunque una buona stabilità, un buon grip. È una suola che è comunque bella tassellata, bella alta e si pulisce anche molto facilmente. Per quanto riguarda la durabilità, io ci ho fatto un bel po' di escursioni e tolto il fatto che sia un po' sporca. È comunque praticamente nuova, non si sta staccando nessun pezzettino, anzi, si vede ancora un po' quel lucidino del nuovo, se dobbiamo proprio dire la verità. Nella suola troviamo il nuovo sistema IKS, Interactive Kinetic System, ovvero la suola divisa in sette porzioni diverse che ci permettono di andare ad ammortizzare ogni punto del nostro corpo. Quindi quando noi andiamo a camminare, soprattutto in discesa, dove abbiamo un forte impatto col terreno, queste sette zone differenziate vanno ad assorbire veramente tanto l'urto e limitarci quello che alla lunga può essere, diciamo, affaticamento, dolore dovuto magari a una lunga discesa. In generale poi tutta la suola è stata progettata veramente in modo molto minuzioso. Pensate che la parte davanti è stata pensata con dei tasselli apposta per la spinta, la parte posteriore è stata pensata con dei tasselli apposta per ammortizzare l'appoggio di tallone quando camminiamo. Ci sono degli inserti stabilizzatori, alcuni che vanno a stabilizzare la nostra camminata. Quindi veramente un'ingenerizzazione molto particolare e molto curata. Passiamo ora a parlare dell'intersuola. Qui troviamo un'intersuola in eva a doppia densità. Ormai l'eva viene utilizzato praticamente da quasi tutti i produttori ed è consolidato. Si sa ormai che è comunque un buon materiale. E troviamo soprattutto un insert DSU, uno stabilizzatore posto qua nel tallone, che ci evita che il piede possa andare in distorsione, quindi che possa ballare in questo modo. E ci te lo tiene bello fermo, bello ancorato sul terreno, anche se dovessimo arrivare in qualche roccia un po' pendente, diciamo dal punto di vista obliquo, questo comunque tende a farci stare dritti. Quindi con questo sicuramente avremo poche distorsioni di caviglie o comunque traumi da questo punto di vista. Continuiamo la nostra iscrizione arrivando a parlare all'atomaia. Un'atomaia in pervanger da 1.7-1.9 mm. Un'atomaia molto molto traspirante, mi è piaciuta veramente tanto. Ho utilizzato in giornate primaverili un po' fresche, potrebbe essere anche un po' fredda, talmente traspirante. E sicuramente uno scarpone che se ho utilizzato in periodo estivo sarà molto traspirante, farà molto passare l'aria. Una pelle che non ha avuto problemi, come potete vedere non ha nessun tipo di abrasione o simili. Per quanto riguarda poi il puntalino, come potete vedere troviamo tutto un bel fascione in gomma a protezione del puntale. E il puntale è molto rigido, se ci prendiamo dentro sassi o radici non avremo nessun dolore o simili. Per quanto riguarda la fodera invece abbiamo una fodera Gore-Tex Extended Comfort. Beh, che dire, il Gore-Tex è sempre una garanzia veramente, nessuna infiltrazione utilizzata anche coi piedi nella neve, davvero non è entrata acqua, beh, in Gore-Tex non c'è nulla da dire. Passando a quello che è la zona invece tallonare, quindi tutto il tallone e anche la parte alta del collo, beh, qui mi ha stupito veramente tanto questo scarpone, perché io venivo da uno scarpone abbastanza rigido, questo invece è veramente molto morbido. Ha, diciamo, il giusto compromesso tra rigidità e morbidezza. Nel senso che è morbido perché quando lo andiamo a utilizzare, anche dopo ore, 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 il piede non si affatica, non sentiamo pressioni, non abbiamo vesciche, zona di sfregamento, nulla. Veramente è molto morbido. E poi comunque rigido, perché allo stesso modo non abbiamo pericoli di prendere distorsioni di caviglie, sostiene molto molto bene, veramente, soprattutto la zona qua dietro tallonare è molto rigida. E che dire, penso che Scarpa veramente abbia trovato il giusto compromesso tra morbidezza per non avere vesciche e problemi di sfregamento e rigidità per avere il giusto sostegno durante la camminata. Per quello che è invece l'allacciatura, troviamo dei lacci bello dei strong, nel senso che si possono tirare anche molto e non si spaccano. Molto semplici, l'allacciatura è vero molto semplice. Mi piace che arrivi quasi sul puntale della scarpa e cosa molto apprezzata, che a me piacciono veramente tanto, sono i passanti autobloccanti, così noi possiamo serrare molto più facilmente il nostro scarpone e questi andranno a ricordare quella che è il nostro pressione di serraggio. Quindi, ma anche da questo punto di vista, io questi lacci li metterei praticamente su ogni scarpone, perché sono veramente fenomenali. Altra cosa molto interessante è la grandezza dell'avampiede, perché di solito si dice quando compri uno scarpone compra un numero in più, perché poi il piede si ingrossa e questo diventerà stretto. Con questi scarponi non ce n'è bisogno, perché l'avampiede è già abbastanza largo. Infatti, quando andremo a comprarlo, mettendo il piede all'interno, ci sembrerà anche grosso come numero. Forse ci verrà da comprare un mezzo numero, un numero in meno. Invece è proprio pensato per questa evenienza, quando andiamo a camminare tanto. Io dico la verità, io con un mio numero 47 ho comprato il 47, ci ho camminato 12 ore, il piede è diventato anche bello grosso, ma non ho avuto nessun tipo di problema di grandezza, né dell'avampiede e nemmeno di problemi con andare a toccare il puntalino per avere un ghi nere. In conclusione, per chi è pensato questo scarpone? Beh, secondo me per qualsiasi utilizzatore, nel senso va bene dal principiante alla persona più esperta. Va bene dal principiante perché è molto comodo, veramente offre un grande sostegno e soprattutto anche tutte le zone di impatto sotto, se non abbiamo una muscolatura molto allenata ci aiutano abbastanza nell'amortizzare l'impatto col terreno. Va bene per una persona medio esperta e anche esperta perché comunque la suola presa, fatta veramente bene, tutto il contraforte tallonare, tutti i materiali sono di alta qualità. E se devo essere sincero ha anche un buon prezzo perché comunque io questi scarponi li ho trovati in giro anche a 150 euro, quindi un prezzo secondo me giusto per questo tipologia di scarpa. Perciò ragazzi, la speranza di essere stato esauriente e esaustivo anche per questo video, io vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!